Giovanna, tu hai cavolcato gli anni d'oro del cinema italiano, no? È un po' cambiato il cinema italiano in questi anni? Perché fai quella faccia? Sì, perché è cambiato, perché mi sembra in difficoltà, nonostante ci siano ottime produzioni, ottimi film, anche ottimi incassi. Però è molto difficile tutta la macchina del cinema, è molto molto difficile, è molto cambiata, è molto cambiata, diciamo, nell'investimento, è molto cambiata nella produzione, nella promozione dei film, è molto cambiato il tempo in cui i film stanno in sala, per esempio, banalmente, sono cambiate tante cose.